Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito Andate su FedericoSPZGames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo a vedere come avere il Core Blocks gratis O almeno ci proveremo Ma prima di iniziare questo video lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox Schiacciando i tre puntini in alta destra E unirvi al mio gruppo SPZ Squad Dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette Se invece volete la mia amicizia su Roblox O se volete semplicemente giocare con me Andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti Eccoci qui su Roblox Perché sì come avete già letto dal titolo Come ho già detto prima Oggi andremo a vedere come avere il Core Blocks gratis Ma più o meno raga Perché vi anticipo già che se siete qui per avere un Core Blocks completamente identico gratis Ecco è un po' difficile Costicchia qualche Robux Non tantissimi Ma bisogna avere qualche oggetto Magari voi ce l'avete già Quindi vi verrà gratis Questo non lo so Ma raga Ve lo dico già Non verrà esattamente come il Core Blocks originale Perché è una delle cose più difficili da ricreare Adesso vi lascio qui a schermo il primo tiktok Che dice Come avere un chip Core Blocks E questa ragazza effettivamente sembra che c'ha bel Core Blocks Dice Indossa questa gamba Che è Queen Map Che è Queen Map of the Fearing Leg Perché non riesco a trovare un'idea Perché non riesco a trovarlo raga Queen Map Ma che cavolo è? Raga vi giuro che non riesco a trovare questo oggetto Ok sono su catalog avatar Che non so se lo conoscete un gioco per provare appunto gli outfit Per provare i vari oggetti prima di comprarli E raga Non capisco Perché non riesco a trovare quel cavolo di oggetto che mi serve Allora andiamo a provare No non qui ho sbagliato Catalogo Sì dovrebbe essere catalogo Queen Map Vediamo se la troviamo Ah raga non la vendono più Ok raga Svelato il mistero Per avere quella gamba che ci serviva a noi del tutorial Bisogna avere questo pupazzo qua Che non so neanche se è disponibile effettivamente in Italia Ma si chiama Roblox Queen Map Costa poco da quello che vedo Ah è pure su Vinted Ok 5 pound Quindi credo che lo vendono in Inghilterra Ma noi non abbiamo accesso all'Inghilterra su Vinted Però sì non dovrebbe costare tanto Vediamo Amazon C'è su Ebay Però raga purtroppo è un oggetto a pagamento Quindi adesso magari provo a ricrearlo su catalogo avatar Giusto per vedere se funziona o meno Voglio andare a levare il vero Core Blox Perché se no raga non ha senso Ok mi ha messo la gamba gigante E adesso vado a levare anche l'altra gamba Ok Così dovrei avere tipo le gambe da noob Se non ho capito male Lei diceva di mettere questo qua Oddio raga What Deve andare assolutamente a togliere il La skin Il Core Blox Quello lì bianco Perché sta facendo pasticci Vedete sembra tipo Cioè se ve lo faccio vedere ora E Super super strano Già state vedendo questa roba Poi La tipa del video Cosa diceva di mettere Poi la ragazza diceva di mettere Questa animazione Ah ok perché va a nascondere la gamba effettivamente Ok E poi ci diceva di andare a mettere il Core Blox Outline Quindi quello di prima non andava bene Io ho detto vabbè lo lasciamo così vediamo Ma non andava bene perché faceva tipo quel bug strano Andiamo a scrivere Core Blox Outline Ok Ne ho messo uno a caso Ed effettivamente Sembra che voi abbiate il Core Blox Però Cioè Allora Quando camminate raga Si vede Cioè Sembra che avete tre gambe Sembrate Una cosa stranissima Io personalmente Non ve lo consiglio per niente Questo tutorial Cioè Ma proprio E ne ho Si devo dire che magari In alcuni video Può sembrare che voi abbiate il Core Blox Quindi magari se Vi piacciono queste gambe Se le indossate Sapete la skin tipo da Nub Esempio Alcuni hanno questa skin qua Adesso vi faccio vedere Ecco Tipo alcuni hanno la skin così Che a me Personalmente Su di me Non piace Ah no Non funziona proprio invece Ho detto una granca volata Dovete avere per forza Il torso Quello che avevo prima Perché se no si vede la gamba E che dire Insomma Questo tutorial Direi che non funziona Perché sembra un obrobrio Però diciamo che Secondo certe angolazioni Se dovete fare alcuni video Potrebbe funzionare Però dovete vedere Se il gioco ne vale la candela Perché dovete pure comprare Un Un giocattolo Vero e proprio Su Amazon Su siti strani Su Ebay Perché non penso ci sia in Italia Come al solito E quindi insomma Secondo me questo tutorial Cioè Questo qua Ha bocciato Ma state tranquilli Perché ne andiamo a vedere Subito un altro Per il prossimo tutorial Vi fa vedere anche qua Dice fake limited E no raga Non è questo qua Sarebbe troppo bello Per essere vero Questo qua E il core blocks Reale Dovete comprare questo qua Costa 250 robux Ma vi assicuro Che è proprio quello Che spunta Nella home page Appena andate su marketplace Quindi cliccate qua in alto Su marketplace Vi spunta proprio Le cose per fare La super happy face Raga palese Tipo il blush sticker Faceless E super cute In queste robe qua Ma oltre alla super happy face Che ho già fatto un video Circa due settimane fa Quindi se volete sapere Come avere la super happy face Gratis O quasi Andate a recuperare il video E ragazzi Per assurdo Cioè prima Roblox andava a eliminare Queste cose Tipo questa linguetta qua Che vi permette di fare La super happy face Una volta L'aveva eliminata Mentre adesso E boh Non si sa come Ma Glielo fa utilizzare Tra l'altro questa qua C'è scritto star code Quindi è pure una youtuber A quanto pare È pure una youtuber A t Cioè assurdo Però non l'hanno tolto Quindi si può fare effettivamente La super happy face Veri e propri e gratis Quindi funziona ancora adesso Il tutorial Quindi andatelo a recuperare Se non l'avete visto Ma Ci serve Come prima cosa Questo qua Che si chiama iron bulb Quindi adesso Io lo metto qua E continuiamo il video Dice che serve La subida Nera Quindi quella roba lì Quella specie di cubo Mio dio Ma costicchia un po' Questa roba E poi serve Quella specie di Corblox finto Allora Io vado a comprare Questo raga Perché Mi serve E lo voglio comprare Da un po' di tempo L'iron bulb Che è una skin di roblox Quindi io la vado A comprare Per l'altro oggetto Dobbiamo schiacciare Black team Ed è questa roba qua Raga Che è veramente Cioè Non capisco Voglio sapere Che cos'è questa cosa Prima di andare a comprare Vorrei capire Che cavolo è Raga Ci sto pensando Ci ho pensato Ma non voglio Assolutamente comprare Sto black team Quindi adesso Vado a copiarmi Il nome E rientriamo Su catalog avatar Solo perché Solo perché Io ce l'ho già Il corblox E non sono sicuro Che funzioni Questa roba Quindi ho comprato L'iron bulb La skin Perché mi serviva Ma non sono molto sicuro Ecco per quanto riguarda Questo fake corblox Tanto ripeto Io il corblox ce l'ho già Però voglio vedere Per voi Se funziona Quindi adesso Rientro su catalog avatar E vediamo se funziona Effettivamente o no Il tutorial Adesso Cosa ci serve Dobbiamo andare su catalog E dobbiamo andare qua Dove volete voi Dobbiamo scrivere Di nuovo Iron bulb Perché anche se l'ho comprato Devo scriverlo qua Per provarlo Eccolo qua Che questa skin qua Andiamo su Sea items E poi andiamo a metterci Tutte e due le gambe In questo momento Abbiamo tutte e due Le gambe di questa skin E adesso Momento della verità Se andiamo a mettere Il black team Che cosa succede E questo qua Try Raga Effettivamente funziona Cioè quindi Spariscono però le gambe Ecco la cosa brutta È che spariscono Entrambe le gambe E poi diceva di mettere Anche qui Outline La solita roba Outline Core blocks Che adesso io vado a provarne Uno a caso Tipo vado a provare questo qua Sembra che voi abbiate Il core blocks Però avete queste gambine Molto strane Cioè ecco Il problema di questo tutorial Qual è? Il core blocks funziona E funziona anche diciamo Che non avete la gamba Tra le scatole Va bene Il problema è che vi toglie Entrambe le gambe E avete questa specie Di puntini E secondo me è una cosa Super super strana Non riesco a capire Potrebbe funzionare Però manca la gamba Raga Proviamo a vedere Se c'è un modo Effettivamente Per Levare la gambina O comunque far qualcosa Allora Io ovviamente ho tolto Quella sbagliata Dove andare a togliere Questa qua Però ecco Vi bug Tutta la gamba E questo è il brutto Di questo tutorial No raga Ho provato Cioè togliendo la gamba Diventa così In questo modo Però Non lo so Cioè effettivamente Questo tutorial è strano Cioè si funziona Perché avete il core blocks Però non avete neanche La gamba destra Quindi qual è il senso Di questo tutorial Non lo so Però ecco Se volete il core blocks Fake Diciamo che questo tutorial Funziona Ma secondo me Io raga Ve lo sconsiglio Lo so Purtroppo il core blocks È molto molto bello Costa tantissimo So che molti di voi Mi hanno detto Fede io ho comprato il core blocks Costava 70 robux Raga Quello non è il core blocks Adesso vi faccio vedere Se andiamo qua su catalogo E scriviamo core blocks Tutti questi qua Che avete comprato voi Non sono core blocks Sono skin Cosa significa skin Adesso io ad esempio Resetto l'avatar Perché io ho il vero core blocks E ve lo faccio vedere Questa qua bianca Che ho io Non è il core blocks Quello che avete comprato voi Ma è una skin Infatti se io vado adesso A levare Esempio La skin Vi faccio vedere Se faccio take off Vedete Sotto c'è il core blocks Vero Quindi quel core blocks Lì che vedete Che tutti mi dite Fede ho comprato questo qua Ma non si vede E perché questa qua È una skin È come se fosse una cover Del cellulare Cioè se voi comprate Solo la cover E non il cellulare Raga Non c'è il cellulare Quindi la stessa cosa qua Se comprate queste qua Ma non avete comprato il core blocks Che costa 17.000 robux Questo qua Raga Non potete equipaggiarlo Perché non funziona Queste qua Sono tutte tutte skin Vedete ne hanno fatte un casino Io le posso provare Vedete Questo qua non funziona Non so cosa serve Sinceramente Ma Esempio Questo qua rosa Io posso provarlo Vedete Mi mette Adesso ve lo faccio vedere Qua nel gioco Mi mette il core blocks rosa Esempio Oppure che ne so Io ho l'outfit Blu Voglio mettere il core blocks Blu Si può fare Cioè io vado a mettere Tipo questo qua E così tipo si abbina al blu Oppure questo qua Nero e blu Oppure c'è questo qua E blu elettrico Insomma ce ne sono veramente Tanti 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 Ne hanno fatti tantissimi Di core blocks Di Diciamo skin Per il core blocks Però ecco Per avere il core blocks Vero e proprio È un oggetto Veramente difficile da ricreare Essendo che manca Una gamba In ogni modo Direi di concludere qua Questo video Fatemi sapere sotto nei commenti Se vi è piaciuto Se sapevate di questo Nuovo trucchetto Per avere il core blocks E un bug Che sinceramente Non so se aggiusteranno Però ecco Secondo me Io vi ho dato la mia opinione L'ho portato Perché magari A qualcuno di voi Può tornare utile Magari a qualcuno Può piacere Però secondo me Non lo so Cioè io fossi in voi Non lo prenderei Non so che voi direte E ma fete tu ce l'hai Però anche io Prima di fare youtube Prima di essere un youtuber Volevo il core blocks Tantissimo Ma 17.000 robux Sono veramente Tanti Sono 200 euro Ed uno sproposito Io l'ho potuto comprare Perché comunque Faccio youtube Perché faccio tutti i giorni I shorts Faccio tutti i giorni i video E quindi volevo Un outfit Un avatar Che mi piacesse Soprattutto anche Un avatar Diciamo costoso In modo che gli altri Non potessero copiarlo Ecco questo è il perché In ogni modo Spero vi sia piaciuto Lo stesso questo video Come al solito Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Iscrivervi al canale Cliccando sull'icocina Qui in basso Cliccare sulla miniatura Per vedere un altro video E noi ci vediamo domani Ciao Ciao